La visita nel borgo di Rondine da parte del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è stata l'occasione anche per toccare i temi della politica nazionale, primo fra tutti i porti chiusi. Sono state le situazioni d'emergenza e le abbiamo risolte greggiamente. Quest'ultima adesso mi sta aggiornando anche lei, adesso mi aggiornerò, eccetera, seguiremo anche questa. In ogni caso, sia ben chiaro a tutti, noi riusciamo e siamo convinti di poter perseguire una politica in campo migratorio che contrasta i traffici, contrasta le criminalità organizzate che sono dietro queste iniziative e che mettono in pericolo la vita dei migranti, dobbiamo essere consapevoli di questo, e riteniamo di poterlo fare e lo abbiamo sempre fatto rispettando i diritti fondamentali delle persone. Noi non abbiamo mai consentito che morisse nessuno per nostra iniziativa, anzi. E sulla rissa politica fra due maggiori partiti attualmente al governo e sulla difficoltà di tenere insieme la maggioranza, Conte risponde così. No, ma guardate, sono cose di prospettiva completamente diverse, ovviamente. Comprendo la battuta e la provocazione. In realtà qui siamo di fronte a una competizione elettorale che ha assunto, lo riconosco anch'io, dei toni molto vivaci. Il 27 maggio vedrete assolutamente un clima completamente diverso. In questo momento tutti i leader di tutte le forze politiche sono impegnati ovviamente nella conquista dell'elettorato, nella persuasione del rispettivo elettorato e quindi è chiaro che questo è l'obiettivo in questo momento prioritario per una forza politica.